musica bella a tutti i popolo di youtube qui è Deluis siamo tornati oggi con un nuovo video l'ennesimo nuclear con la piccola guida per come migliorare la presa di un nuclear e questo qui prima di illustrarvi la guida vi illustra un attimo il gameplay abbiamo uno scorpionevo caricatore rapido davvero essenziale perchè lo scorpionevo consuma i colpi con una velocità esorbitante e silenziatore perchè altrimenti ci avrebbero fatto subito il culo poi come secondaria il coltello poi abbiamo inflessibile fantasma essenziale sciacallo geniere se non mi sbaglio geniere poi abbiamo al solito c4 la gnata mp allora raga le ricompense sono le assist man ovvero la il wav il contrattacco e il vsat c'è la variante da cioè si può scegliere tra mettere o il contrattacco oppure il sistema mp il sistema mp vi farà un botto di punti al momento però io credo che io credo che il contrattacco sia migliore perchè unendo i suoi assist a quelli del wav perchè sono conseguibili tutti e due in modo veloce si arriva più velocemente al vsat invece con il sistema mp devi cioè devi lotterai dopo aver già ottenuto il vsat quindi io consiglio principalmente di avere il contrattacco perchè alla fine un effetto abbastanza utile lo da di oscurare la mappa alla fazione opposta cioè ai nemici minchia stavo per sbagliare è la prima volta che mi succede quando faccio un commento di cristo e comunque poi raga cioè per prendere migliorare la presa nucleare io consiglio questa cosa qua di usare innanzitutto queste ricompense poi di giocare in modalità dove ci sono cioè poche persone sei ad esempio come vedete io sono qui in gruppo da uno quindi c'è gente che dice che faccio risultati solo perchè sono in gruppo da sei sono connessionato eccetera invece no ho tre tacche sono in gruppo da uno quindi se si vogliono smentire queste voci va benissimo eeeh raga poi che altro vi posso dire per migliorare la vostra tattica di prendere un nucleare innanzitutto siate tranquilli non avventatevi ad andare addosso ai nemici perchè comunque scusate perchè avete ehm 10 minuti di partita tranquilli perchè cioè nessuno mi corre dietro per fare un grande risultato dovete fare 30 uccisioni quindi cioè potete andare tranquillissimi senza nessun problema e mi raccomando basilare proprio basilare il silenziatore io ho caricato cioè uno uno sciame sentimi un nucleare solo con lo SWAT quello lì che fa raffiche da tre colpi che ho scoperto che è una grandissima arma però l'ho fatto senza silenziatore quindi un nucleare abbastanza carino quindi credo lo caricherò allora gli SWAG SWARM raga è un po' difficilino non so più come farli quindi qualche consiglio è ben accettato e e poi ovviamente dopo questo video qua quando verrà caricato farò una playlist cioè una rubrica anche per i nuclear perchè già ne ho caricati abbastanza cioè ho caricato quello col PDV e vabbè quel 100p non posso definirlo ha quello con la 94 e questo qui con lo Scorpion Evil già siamo a 3 poi penso che lo cercherò di farlo con ogni arma ieri ero col Cicom Cicom non so come cazzo si pronuncia lo chiamo Cicom e ero a 29 c'era sempre Virte questo ragazzo che sta con me nel gruppo di questa partita M200 fatemi un salto per il loro canale raga sono cioè penso li conosciate M200 sniper italiani e comunque ero a 29 tutto tranquillo al primo round di partita eh al primo round mancava tipo a minuto e 35 cioè il tipo eh cioè io ero 28 lo ammazzo aveva la Bouncing Betty li al cioè salta e mi stendo cioè la macchina vicino esplode ma penso che erano le 3 di notte ho tirato un porco dio ho anche bestemmiato ma non dovevo vabbè ho tirato quella cosa lì ma davvero ho urlato un casino se il mio padre è successo un bordello poi cioè proprio quelle cose che ti fanno innervosire un sacco e raga spero che l'andamento del canale vi stia piacendo ci stiamo comunque cioè cerchiamo di tenere standard abbastanza alti comunque perché non voglio portarvi cose già viste anche se diciamo la maggior parte delle cose cioè sono cose che fanno un sacco di youtubers eh quindi non è che le mie sono cose essenziali e personali comunque il video della comunità italiana ha ottenuto qualche battibecco su canali di gente importante sono una persona molto omertosa e come lo sono stato in quel video voglio dire che il mio cioè quel video non era riferito principalmente a nessuno ma la gente l'ha interpretato male ha incominciato a insultarmi ma sinceramente a me non cambia niente cioè possono rovinarmi il canale cioè io ho la coscienza a posto l'ho precisato un sacco di volte che non volevo offendere nessuno ma evidentemente per qualcuni cioè è un concetto difficile da capire spero che almeno se vedano questo video capiscano che non era niente riferito a nessuno era un video così per parlare non degli youtubers ma della gente che cioè lasciamo stare non mi vanno neanche più di parlarne visto che qualcuno cerca di concretizzare qualcosa ma purtroppo non viene capito quindi sinceramente mi girano i coglioni e lasciamo stare non mi sprecherò più la prossima volta comunque raga il gameplay si è giunto al termine e spero vi abbia sorpreso anche questo nuclear con lo scorpionivo quindi se il gameplay vi è piaciuto lasciate un bel mi piace continuate a iscrivervi e condividere un saluto raga qui il vostro luis bell a tutti i santarellini di e alla prossima grazie Grazie a tutti